...figura di spicco nel panorama jazz fusion degli anni 70 e del violino elettrico. Banta collaborazioni con artisti internazionali, niente poco di meno che Frank Zappa, Elton John e la Mavirnu Orchestra. All'eccezionale tecnica del violinista francese si unisce la seducente voce della figlia, compositrice pianista raffinata, in un connubio di ritmi jazz classico e pop. E' un grande onore per me presentare su questo palco della 29esima edizione dell'Adeline Jazz Festival, Jalieu Ponti e Clara Ponti Cortit. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Very much. Um. I have to switch to another language. We started with a piece of my compositions which is called To and Fro. Then a piece by Clara called. Grazie. Thank you. Thank you. I'm going to play another piece by Clara. This one is called Oh really? OK. Sorry. This is one of mine from the 70s from the album Imaginary Voyage. This piece is called The Gardens of Babylon. Grazie. 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 Something like that. And then we're going to play the sweet, the title track, Enigmatic Ocean. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti